Sì, quando c'è una vittoria fa sempre bene, abbiamo dato seguito ai risultati, il bottino pieno ci fa ancora più piacere, specialmente perché è venuta anche dopo una buona prestazione. Così il tecnico Roberto Daversa nella conferenza stampa dopo il successo di Cittadella, partita caratterizzata sicuramente dalla clamorosa tripletta di Vastola ma anche da uno spirito di corpo ritrovato. Il tecnico si sofferma poi sulle palle inattive e anche sul doppio turno interno Vicenza e Perugia. Sulle marcature dobbiamo migliorare, è un peccato perché stiamo subendo dei gol su evitabili, quindi andiamo a compromettere prestazioni e la proficità nel far gol con errori di disattenzione che bisogna migliorare. No, io penso che principalmente adesso come adesso sia più difficoltoso giocare in casa, nel senso perché bisogna imporre il proprio gioco, quindi è più difficile. Infatti se andiamo ad analizzare anche il nostro percorso, fuori casa abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni. E' chiaro che bisogna pensare partita dopo partita, adesso viene il Vicenza, ma squadra che fa della fase difensiva la sua arma migliore e concede poco, quindi dobbiamo essere bravi a non aver fretta e sfruttare quelle occasioni che ci capiteranno, ma soprattutto a non concedere nulla perché, ripeto, la cosa più importante è che per qualunque tipo di risultato bisogna subire meno gol.